Nello scorso weekend il video di Fedez ripreso al party dell'amico rapper Capo Plaza insieme a una ragazza bionda, Ludovica Di Gresi, è stato al centro di molte discussioni social. Ci spostiamo! Oppure è troppo tardi, le avrebbe sussurrato lui che da quel momento è diventato protagonista di una serie di insinuazioni sulla possibilità che fosse in corso un flirt, il primo dopo la fine del matrimonio con Chiara Ferragni, che non ha mancato di postare una eloquente storia Instagram. Sull'episodio nessuno dei diretti interessati si è espresso fino a ora, quando lo stesso Fedez ha fatto riferimento all'accaduto rispondendo a Giuseppe Cruciani nel programma radiofonico La Zanzara. Il rapper, infatti, è intervenuto mentre Cruciani e David Parenzo portavano avanti la diretta e dopo aver commentato il processo contro il Kodakons, si è toccato il tema gossip. Cruciani ha allora fatto riferimento al 2DP che, stando alle indiscrezioni, Ludovica gli avrebbe rifilato quella sera, quando ci siamo sentiti abbiamo riso di questo, ha affermato il cantante chiudendo subito l'argomento e lasciando così intendere che tra loro ci sia solo un'amicizia. Poco o nulla è dato sapere circa l'identità della ragazza. Appartiene all'alta borghesia milanese ha riportato il giornalista Giuseppe Candela, firma di Dagospia, mentre l'ego ha rivelato che avrebbe una ventina d'anni e sarebbe una studentessa di moda all'Istituto Marangoni di Milano. Intanto Fedez nelle scorse ore ha aggiunto un nuovo tatuaggio ai tantissimi sparsi sul corpo, due mani sui palmi delle mani, eseguiti a poche ore dal compleanno di Chiara, il primo che trascorrono distanti dopo anni. Real Video vi ringrazia per averci accompagnato fino alla fine. Per rimanere sempre aggiornati sui nostri prossimi video, vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale e attivare la campanella delle notifiche. Grazie per il vostro supporto. Grazie per la visione!